segui la sette anche su instagram la sette ovunque con te regolissima con le cancellerie internazionali e poi quello che leggiamo sui giornali italiani allora noi come giornalisti ci dobbiamo chiedere com'è possibile che noi rappresentiamo in italia allo sfascio la mattina io quando leggo il giornale sono sconvolto perché mi preoccupo dico adesso fammi chiamare i miei figli sta e si sta sfasciando tutto praticamente il paese è alla fine poi abbiamo parecchi una cosa semplice fai digito www istat.it mi leggo i dati e poi dopo mi faccio la doccia serena e tranquillo che so che sto in un'italia che sta crescendo dove l'indice di fiducia dei cittadini è maggiore di ieri dove il risparmio delle famiglie è maggiore di ieri dove la ricchezza è maggiore di ieri dove l'inflazione è minore di ieri questo film dove l'hai visto non lo so non lo leggo i dati istat no 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 siamo felici guarda vengo a fare una doccia da te la prossima volta così avrò una giornata migliore non con me però stai lontano da me però nella tua doccia così vi darò la vita più bella allora leggete i dati istat e vedrete che quello che scrivono certi giornali è sbagliato adesso è falso